E' arrivato sino a Teramo, in Abruzzo, il business dei falsi diplomi di operatori sociosanitari gestito da due manduriani, una brindisina per cui i tre imputati, Cosimo Di Giacomo, 54 anni, di Manduria, Fabio Di Maggio, 32 anni, anche lui manduriano ma residente a Lecce, la coniuge, brindisina 36enne, Elsa Occhilupo a domicilio da Roma, sono già stati processati e condannati lo scorso gennaio dal Tribunale di Lecce a un anno di carcere a testa. Per questo filone abruzzese però 9 sarebbero state le persone truffate, quasi tutti provenienti dalle province, nel periodo tra il 2015 e il 2018. Secondo la denuncia delle presunte vittime abruzzesi, gli organizzatori pugliesi dei corsi avrebbero permesso il rilascio di un regolare attestato di osso, scoperto essere poi carta straccia, costata però 2800 euro con corso annesso. Tutto ora dovrà ripartire da Lecce con un nuovo GIP perché il procedimento è stato invalidato per difetto di competenza territoriale. I fatti denunciati sarebbero stati commessi in Abruzzo e nella sede principale in Salento. Dunque i presunti truffati abruzzesi, oltre al disagio della distanza, dovranno sperare in un processo sprint prima che il reato si prescriva.